Il mercato è aleatorio, il mercato è incerto, il mercato non ci dà... Diciamo che noi per fare trading, in linea generale, dobbiamo prevedere il mercato. Ecco, apriamo questa grande parentesi. Sapete che io non amo la parola previsione sul mercato, tendo sempre a sostituirla con la parola pianificazione, che non è la stessa cosa, però di base sappiamo che nel momento in cui entriamo a mercato tutto può essere imprevedibile e quindi anche la migliore situazione che corrisponde perfettamente alla nostra strategia di trading può comunque risultare poi fallimentare nel momento in cui il mercato ci mostra cosa vuole fare. Questa cosa ovviamente porta l'essere umano a dubitare di se stesso, ad essere molto incerto e quindi a sviluppare dei comportamenti che sono sicuramente poco funzionali nel trading. Molti esseri umani, molti di noi, vogliono sempre avere il controllo su tutto. A una causa deve corrispondere a un effetto e questo nel trading dobbiamo sapere che nel trading spesso non è così e quindi nel momento in cui noi andiamo ad accettare l'incertezza che ogni giorno il mercato ci offre e anzi impariamo a viverla e amarla questa incertezza, sicuramente potremmo iniziare a lavorare con più efficacia e quindi con risultati migliori. Diciamo che il detto che si basa sulla scarsità e non sull'abbondanza, ovvero è meglio un uovo oggi che una gallina domani, nel trading probabilmente è un po' potremmo dire tendenzialmente è perdente. Non dico è certamente perdente perché poi nel trading appunto per questo fattore di incertezza che ha in realtà nei mercati a volte è meglio l'uovo oggi, ma molto spesso diciamo che questo detto non è così efficace. Proprio perché il mercato è incerto, quindi dobbiamo cercare di gestire la cosa e che a volte è meglio prendere l'uovo e a volte invece è meglio cercare la gallina, ecco, se vogliamo. Ma al di là di questo che voleva anche essere un po' un punto di rottura di quello che vi ho appena detto, come dire, uno spunto anche di riflessione oltre che un punto di rottura, quello che vorrei stimolarvi, su cui vorrei stimolarvi a riflettere è proprio questo. Cerchiamo di interiorizzare, di fare nostro il concetto che il mercato farà quello che vuole e che è incerto per sua natura. Quindi noi dobbiamo cercare di essere certi e sicuri della nostra metodologia, che ci deve essere ovviamente alla base, e dobbiamo fidarci ciecamente di lei anche quando il mercato ci dice completamente il contrario. Anche quando abbiamo un periodo, un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi in cui il mercato sta dicendo il contrario. Dobbiamo assolutamente fidarci del nostro metodo. Solo così potremmo essere leggeri, liberi. Bruce Lee diceva bisogna essere come acqua, quindi bisogna essere elastici, morbidi e accettare tutto quello che arriva. Ricordo che un trader può avere tutte le conoscenze tecniche del mondo, ma non riuscire a guadagnare. Ecco, chiedetevi i motivi, io da tanti anni che faccio trading e tanti anni anche che cerco di trasmettere i miei concetti, e quindi ho visto tantissimi trader, tantissime metodologie, le ho viste tutte, tutte. Non era quella cosa che poi gli faceva fare il salto. Era come loro gestivano se stessi e soprattutto come inserivano il loro sé e non il loro ego sui mercati. Altra cosa che ho notato può essere molto molto impattante, ecco, sull'essere umano, quindi il trader, colui che poi si va a posizionare nei mercati, è una forte perdita o delle forti perdite. È stato riconosciuto anche a livello scientifico che noi, esseri umani, andiamo a essere più dipendenti in maniera negativa dopo una forte perdita che dà un profitto, un forte profitto. Cioè noi ci ricordiamo molto di più le perdite pesanti che magari un periodo o dei grossi profitti. Quindi ci porta a fare questa grossa perdita, queste grosse perdite, dei comportamenti che sono poco funzionali all'obiettivo. Ci poniamo di fronte ai loss e di fronte ai profitti in maniera completamente diversa. Dovremmo invece cercare di riuscire a lasciare andare. Il risultato è determinato da un processo. Il risultato può essere negativo o positivo. Non è relativo a quel setup era perfetto, doveva andare in profitto. Posso capire che questi concetti, per molti di voi che magari fanno trading da 2, 3, 4 anni e sono all'inizio di questo percorso, possono sembrare anche addirittura ridicoli per alcuni. In realtà sono molto profondi e vanno proprio all'interno dell'essere del trader. Se quindi noi sentiamo la perdita quando la subiamo, la sentiamo che è perforante, è dolorosa, non ci fa stare bene, attenzione, cerchiamo di lavorare su questa cosa, cerchiamo di lavorare magari sul processo che ci porta a fare determinate cose, sulla gestione del rischio e cerchiamo quindi di capirci. Solo un grande studio introspettivo di noi stessi può portarci anche a gestire questa cosa e di migliorarci nell'accettazione del risultato. Quindi nella perdita e nel profitto. Perdita e profitto è un risultato e noi dovremmo riuscire a far scivolare via e ripartire con il trade successivo come se fosse un nuovo trade, come se non ci fosse stato quello che c'è stato prima. E l'ultima cosa che poi sono tutte molto collegate è il nostro ego. Il nostro ego ci porta a fare i comportamenti peggiori spesso, soprattutto quando l'ego non è, come dire, allineato al nostro io, al nostro vero io, ci fa spesso fare cose che sono, da un punto di vista proprio del risultato, molto poco efficaci, spesso completamente inefficaci. Il cercare di avere ragione, l'orgoglio, il tirar fuori l'orgoglio, non accettare appunto la perdita, quindi aumentare gli stop, cambiare strategia continuamente. Questo è portato, è il nostro ego che non vuole vederci perdere, non vuole vederci soffrire, non vuole vederci non essere profittevoli subito nel trading magari. O fa fatica a digerire il fatto che su tutte le cose che abbiamo fatto, che facciamo, siamo stati vincenti, nel trading no. Ricordiamoci che nel trading è un'altra cosa, nel trading siamo solo noi. Spesso faccio l'esempio dell'agente, dell'imprenditore, io ne ho conosciuti tantissimi in questa esperienza anche formativa, quindi di coach dei trader, dove ho visto manager che erano super di successo, avevano avuto successo in un sacco di ambiti della loro vita, nel lavoro, nella famiglia, in un sacco di ambiti, nel trading no. Poi andavi a capire e io ho notato che molti di questi magari avevano una buona comunicazione, riuscivano ad essere empatici, quindi nel loro lavoro dove la comunicazione con le altre persone era fondamentale, erano riusciti ad avere successo proprio per quello. Ma nel trading, seppur siamo tantissimi nel mondo che fanno trading, la comunicazione serve a poco, non serve anzi. Noi dobbiamo cercare di ascoltare la voce del mercato e soprattutto ascoltare la nostra voce interiore e cercare di migliorarci dentro per poi essere efficaci nel trading. Noi dobbiamo prendere costantemente decisioni senza comunicarle a nessuno. Non possiamo andare dall'amico o dal collega e dire comunicando che volevamo fare una determinata cosa, vogliamo fare una determinata cosa, c'è questo business, c'è questo, e quindi a livello comunicativo riuscire anche a gestire delle fasi anche difficili e magari di possibile sofferenza, ma riusciamo a gestirle per il fatto della comunicazione. Invece i mercati di base non hanno questo, i mercati sono silenziosi, il prezzo parla la sua voce, ma non possiamo andare a discutere con il monitor che cosa possiamo fare, che cosa sia giusto o sbagliato. Dobbiamo saperlo noi e saper gestire tutte queste fasi attraverso poi tutte le emozioni che ne derivano e cercare di gestirci in modo che poi le azioni, i comportamenti che noi faremo sui mercati siano il più possibili e efficaci, che non vuol dire guadagnare sempre, vuol dire anche chiudere posizioni in perdita, accettare dei costi, accettare dei momenti di costo. La carriera del trader, professionista, come lo sono io, dura una vita. Di momenti, gli alti e bassi, come ci sono nella vita, ci sono anche nei mercati, dobbiamo accettarli, essere consapevoli. Se noi lavoriamo di consapevolezza e lavoriamo di accettazione, nel mondo incerto dei mercati, nella certezza di quello che stiamo facendo, è lì che abbiamo vinto. Il metodo vince lì. Spero che questa pillola vi possa essere utile. Riascoltate magari alcune delle cose che ho detto. Se anche voi magari avete sentito in qualche modo una vicinanza su quello di cui ho parlato e di cui ho discusso, mi fa molto piacere essere in supporto su questo. Prima di lasciarvi vi ricordo appunto se vi è piaciuto questo video di mettere un mi piace, di iscrivervi a questo canale. Da circa 10 giorni c'è la possibilità anche di abbonarsi a questo canale a un prezzo ridicolo. Quindi supportate il canale e se vi piace insomma avete anche la possibilità di abbonarvi. Io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro un buon Trading Simple a tutti. Ciao!